Il design è stato sostanzialmente il tools di trasformazione sociale che ci ha permesso di collegare tanti puntini che vanno dai modelli organizzativi alla costruzione di un retail diverso rispetto al convenzionale, a concepire anche i prodotti attraverso dei workshop fatti con questo contenitore che chiamiamo Lago Studio che invita creativi di tutto il mondo. B.S. quest'anno festeggia i 50 anni e con Lago sono ormai 20 anni di partnership, siamo cresciuti insieme. Tutto quello che vediamo attorno ci fa ricordare questo. Siamo arrivati con l'ultima installazione a fare veramente una rivoluzione. B.S. sia dal punto di vista produttivo che di prodotto per Lago e per V.S. B.S. B.S. che non siano vittime dello stile che poi lo fa diventare vecchio perché è passato di moda e quant'altro. Questa partnership ha dei risvolti bellissimi. Lago è un'azienda a 360 gradi in tutto e per tutto. B.S. ha sempre cercato di trovare la soluzione tecnica giusta sposando i loro ideali sia di prodotto che produttivi. B.S. dovevo scegliere di costruire fabbriche all'infinito o adottare i modelli organizzativi che avessero più intelligenza e per cui ci siamo ritrovati con la Lean Production. B.S. buongiorno a tutti, sono Carlo Bertacco, sono plant manager di Lago. Detto e fatto palestra con il primo impianto all'8.1 qui in Lago, il mio sogno sarebbe quello di poter implementare tutta la fabbrica, tutta la fagnameria. Questo ovviamente mi permetterebbe di riuscire a far fronte all'incremento di volumi rimanendo sempre dentro lo stesso spazio. B.S. è sempre più attenta alle esigenze dei clienti, clienti che devono competere in un mercato che cambia, mercato sempre più diretto nella gestione a commessa, con particolare attenzione ai magazzini, alla gestione e alla diminuzione dei magazzini, alla gestione di fabbrica e al monitoraggio dell'età improduttivo. Cosa propone B.S.? B.S. propone soluzioni flessibili che vanno dal taglio alla gestione del materiale con il magazzino Winstor e all'8.1 di bordatura, con la personalizzazione del pannello con breme skipper prima della spedizione. Questa è B.S., questa è cosa offre B.S. ai clienti che devono competere in un mercato che cambia. Dovrà essere una lago sempre curiosa, sempre bambina, sempre monella, ecco, questa è la cosa che auspico che la lago del futuro riesca a mantenere, perché senza la forza di quell'entusiasmo poi l'organismo si atrofizza.